I quaddisti sempre al team Cozzi, ai box del team Cozzi abbiamo il capo meccanico Alex con Nicolas Agosti Agosti, gara 1, settimo posto, hai voluto schierarti nella categoria regina, nella QX1 e stai dando manciate di gas, diciamocelo anche un po' troppo perché in gara 2 è stata una manciata di troppo per Diana Dicolas raccontaci, soprattutto com'è entrare in pista con Nicola Montalbini, con Beto, con Martin Liska Beh, innanzitutto è un onore correre con Nicola, soprattutto con lui perché è della mia stessa squadra e poi guardando le sue traiettorie ho capito un po' di più come si corre con i 4 e mezzo e insomma sono contento Ma lo devi scarenare perché sennò Nicola non è contento, cioè il suo massimo è quando cresce un altro pilota della squadra e lo scarenate per Diana Diciamo che per questa giovane promessa che io ci spero e ci conto tanto in questo talento ha fatto un bel passo quest'anno perché ha iniziato con la categoria dei 300, dei ragazzi giovani ma poi diciamo che con la sua molle, come lo vedete Ma lo vediamo, è un acciughino proprio, guardalo qua, un 40 kg, via dai Il 600 non lo riesceva più e quindi ha deciso di entrare in QX1 con il suo Super TRX 4 e mezzo preparato bene anche lui con parti in carbonio speciali e tutto e ha dimostrato che ce la può fare noi ci crediamo come team in questa giovane promessa perché sta crescendo tanto Signore il settimo posto in gara 1 Onorevole anche perché È QX1 eh, non è QX2 No no è QX1 e non dimentichiamoci i bolidi che girano lì i piloti di alto livello e il livello si è alzato tantissimo quindi fare settimo per le prime gare che sta facendo è veramente onorevole per noi e siamo contenti di averlo nella nostra squadra E a settembre ci diamo ancora manciate di gas? A settembre sì perché innanzitutto arriverà un mezzo nuovo diciamo in perché siccome corriamo in due io e mio padre non arriviamo sempre a stare dietro le gare quindi prenderemo un mezzo in ufficio È in preparazione, è in preparazione Si, in preparazione, si vedrà Stiamo preparando il secondo quad perché è uno usato in due Ma ci dà più gas il figlio o il papà? Insomma il motore chi è che li usura di più? Diciamo che E il papà dice io, io, io Il papà ha fatto lui quindi bisogna dare merito anche al padre se lui va così forte quindi penso che le sue soddisfazioni come papà se lui arriva anche prima del papà Ecco, la soddisfazione è quella Ascolta, com'è passare dalla QX3 in un'arena di leoni come la QX1? Beh, prima gara a Fano che ho corso quel quattro e mezzo mi sentivo, boh, avevo diciamo paura di entrare in QX1 ma poi sono entrato, mi sono tranquillizzato e sono andato avanti piano piano fino ad adesso E rigere più di venti minuti di gara? È quello stancante, sì Grande ragazzi, alle prossime interviste e una cosa, quest'estate dove pensi di allenarti? Ma forse a luglio farò un corso con Nicola e dopo via per le mie parti andrò a allenarmi di là Magari ci vediamo all'Interregionale se decidi di venire a fare qualche garettina C'è una gara non settimana prossima ma settimana l'altra a Bellinzago a Milano di Interregionale Quad Cross Si vedrà, non so Porti i colori del Team Cozzi insieme a Maurizio Bianchi Eh non si sa ancora Grandi, veramente i complimenti per il risultato in gara 1 e un arrivederci alle prossime interviste Complimenti anche a voi e soprattutto questa gestione del campionato di Giorgio Carletti e della Nicoletta Che veramente compiono delle grandi opere in bellissimi circuiti E abbiamo avuto anche altri piloti stranieri e purtroppo per loro non sono arrivati in testa E che dire, tanto di rispetto, tanto di cappello ma ci siamo arrivati ancora una volta noi qui E i complimenti vanno sempre e soprattutto al primo, alla moto del primo, al team del primo E grande rispetto per questo In pista, in tutti i risultati in cui su uno, 10 mancia, 10 volte per primo sotto la bandiera a scatto Ciao Signori, un saluto